Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio fatto nel programma di La 7-8,5, programma di Lilli Ligruber sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Il primo partito è La Lega con il 21,3%, il secondo partito Fratelli d'Italia con il 19,5%, poi abbiamo il PD con il 19,4%, il Movimento 5 Stelle con il 16,8% e Forza Italia con il 6,7%, azione di calenda al 2,6%, sinistra italiana al 2,3%, l'EU articolo 1 al 2%, Coraggio Italia all'1,8%, Italia Viva all'1,8%, altre liste sotto l'1,5%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra ventina di minuti. Arrivederci a tutti.